buona giornata amici ben trovati alla rassegna stampa di fano tv oggi è sabato 20 luglio 2024 purtroppo anche oggi siamo stati costretti a evitare la prima edizione della nostra rassegna stampa dato che i giornali non sono stati puntuali in edicola e quindi hanno ritardato molto tempo per cui non abbiamo avuto la possibilità di averli sulla nostra scrivania quindi veniamo con le repliche della mattinata abbiamo detto che oggi sabato 20 luglio 2024 e vediamo subito chi si festeggia nella giornata di oggi ed è un santo molto famoso anche dalle nostre parti e vediamo eccolo qua è Santa Polinare di Ravenna forse la grafica così regale non dà l'idea veramente di quello che era Santa Polinare perché era un discepolo di San Pietro quindi visse nel primo secolo seguace di San Pietro che conobbe in Antiochia dove l'apostolo stava predicando e appunto vide questo ragazzo molto sensibile a quello che stava dicendo lo portò con sé a Roma e poi lo indirizzò a Ravenna dove si era già costituita una comunità di cristiani ebbene in Ravenna Polinare si distinse per la sua fede compiendo diversi miracoli e poi morì per le percosse ricevute dai pagani essendosi rifiutato come tanti altri cristiani di sacrificare agli dèi e Santa Polinare è il patrono di Ravenna ed ha una splendida cattedrale di stile bizantino che è veramente una delle opere d'arti più significative della nostra Italia. Vediamo ora le previsioni del tempo Abbiamo un tempo che sta un po' cambiando rispetto alle giornate assolate dei giorni scorsi che stamattina addirittura un piccolo scroscio di pioggia ha rinfrescato la mattinata alle prime luci dell'alba ebbene il tempo oggi sarà variabile con piovaschi al mattino in modo particolare sull'urbinate in estensione nel pomeriggio nelle zone interne e nel fermano. Le temperature sono in leggero calo arriverà alla massima ai 28 gradi rispetto ai 33 dei giorni scorsi mentre la minima si è fermata a 24 gradi sulle coste i venti spireranno con una tensione da nord ovest mentre da nord e nord ovest nell'entroterra e il mare è leggermente mosso. Questa mattina soffiava un forte vento che poi si sta placando nel corso della mattinata. E allora apriamo i giornali dando un'occhiata oggi al Corriere Adriatico sulla pagina di Fano dove l'apertura è simile a quella del resto del Carlino perché riguarda l'incidente che si è verificato l'altro pomeriggio sulla statale 16 tra Pesaro e Fano. Morto in moto lascia tre figli, dice il titolo. Si tratta di Alberto Fiorani, 51 anni, che ha perso la vita nello scontro mentre lui era in motocicletta insieme al figlio di 18 anni sul sedile posteriore scontrandosi contro una panda condotta da un 26enne pesarese. È stato trasportato d'urgenza con l'eliambulanza nell'ospedale di Torrette di Ancona ma dopo poche ore l'altra sera è deceduto per le ferite riportate. Nell'urto era stato sbalzato dalla moto cadendo nel fosso insieme al figlio. Il figlio allo stesso era in gravi condizioni però sembra che nel corso della giornata di ieri la sua situazione sia migliorata tant'è che i medici dicono che non è più in pericolo di vita ha avuto delle fratture multiple però insomma sembra che se la caverà. Purtroppo non è così per Alberto Fiorani, un ingegnere come viene descritto qui anche dal resto del Carlino morto nella notte Alberto Fiorani, era ingegnere, 51 anni, poliglotta, lavorava alla CCM una ditta che si occupa di fornire strumenti per l'industria e per il commercio. Comunque commozione ed incredulità per la morte di questa persona. Era padre di tre figli appunto deceduto nella notte tra giovedì e venerdì all'ospedale di Torrette di Ancona. L'impatto è stato fatale. C'è anche un ricordo che viene evidenziato dai giornali perché proprio appresa la morte alcune persone hanno espresso il loro cordoglio, il loro cordoglio in modo particolare nei social. Alberto Fiorani, una persona dinamica, solare, che amava i viaggi, il mare, lo sport e la vita. L'immagine nel suo profilo di Facebook lo ritrae mentre esegue un lancio con il paracadute in tandem sulla città di Fano per evidenziare appunto la sua passione sportiva e anche del resto la sua passione per la moto era una passione che lo coinvolgeva e che purtroppo però gli è rimasta fatale. La notizia della improvvisa morte è stata così coinvolgente, coinvolgente per diverse persone. Mi manca il respiro dal dispiacere. Era un ragazzo d'oro. Questi sono alcuni commenti che sono stati tratti. Io ancora non riesco a crederci. Solo in queste tragedie ti rendi conto di cos'è la vita. Un attimo e purtroppo non ci sei più. Ma in quell'attimo si spegne tutta una vita piena di attività, di ricordi, di relazioni. È veramente una tragedia. Vediamo le altre notizie sperando che siano più consolanti. Ebbene, ieri c'è stata la conferenza stampa del venerdì nella giunta di Fano. Una conferenza che ha ripristinato il sindaco Ser Filippi dopo che era stata un po' trascurata dalla precedente giunta essendo stata invece proposta, pensate, dall'allora sindaco Cesare Carnaroli. E siamo negli anni 90. Ebbene, ieri si è parlato di due argomenti importanti. Innanzitutto la giunta si propone di incontrare i cittadini di Carrara per discutere con loro come investire i soldi che Terna si è detta disposta a dare al comune di Fano in compensazione dell'attività dei lavori, diciamo così, per la realizzazione dell'Adriatic Link. Sapete cos'è l'Adriatic Link? È quel nuovo elettrodotto che collegherà il nostro territorio con l'Abruzzo passando sottoterra, quindi non per via aerea, passando sottoterra fino alla spiaggia di Metauriglia. Qui si inabisserà nel mare e poi riemergerà nell'Abruzzo e quindi collegherà le marche con l'Abruzzo. Questo è un'opera piuttosto considerevole, molto molto costosa, che però procura evidentemente un impatto ambientale non trascurabile ed è per questo che Terna darà al comune di Fano 12 milioni e 300 mila euro che il comune si appresta ad investire nel territorio. Come farlo sarà oggetto di un incontro che è stato programmato per il prossimo 24 luglio a Casa Bethlehem, a Carrara, alle ore 20.45. Ebbene, il comitato di Carrara e i residenti hanno già dato all'amministrazione comunale un elenco delle loro esigenze. L'amministrazione comunale, dato che la maggior parte dei soldi andrà investito a Carrara, ma non tutto, perché una parte andrà investita anche a Metauriglia e qualcosa credo che andrà anche così investito nella città. Insomma, sono risorse importanti che dovranno dare una svolta al territorio. L'altro argomento è stato invece quello della fruizione di alcuni bandi marchigiani regionali che daranno fondi per la realizzazione di due progetti importanti. Il comune di Fano intende riesumare il progetto di ristrutturazione del Bastione Sangallo, che in prima istanza non è andato a buon fine. Un progetto interessante che vede rivalutare, anche dal punto di vista strutturale, ma anche estetico, questo antico baluardo rinascimentale costruito dal Papa per difendere Fano dagli attacchi saraceni, ebbene sarà dotato di un nuovo impianto di illuminazione e poi sarà dotato di tutti i percorsi aerei che potranno così dare la possibilità anche ai disabili di poter entrare in questa bella struttura. Quell'altro progetto riguarda invece la viabilità di Viale Dante Alighieri e che è stata contestata dai residenti quando sono stati eliminati i parcheggi. A questo proposito la Giunta è stata più sibillina, non ha ancora svelato come interverrà su Viale Dante Alighieri, ma i termini sono veramente molto molto stretti, perché entro il 26, dunque, entro pochi giorni insomma, perché poi il bando è molto drastico per quanto riguarda le scadenze, il progetto dovrà essere presentato. Allora sapremo veramente che cose i tecnici hanno preordinato per questa importante arteria che è parallela a Viale Adriatico in Sassonia. Questo per quanto riguarda Fano, pubblicato dal Corriere Adriatico. Vediamo se ci sono altre notizie. Sì, c'è un'altra notizia importante sul resto del Carlino e riguarda il turismo. Rinasce il Playa. Ebbene, qui è un operatore che investe in un albergo ed è una cosa veramente eccezionale, perché in questi tempi così un po' ballerini per quanto riguarda le stagioni turistiche ci vuole del coraggio per investire negli alberghi. Ebbene, questo è un operatore che viene da città di Castello e va in vacanza a Rimini, ma tre anni fa ha deciso di investire 5 milioni di euro sull'albergo di Torrette, appunto l'hotel Playa. Un hotel di lusso a quattro stelle. Cerco un chef del posto, ha detto, per attivarlo. Ha 24 camere, invece delle 48 esistenti. Prima erano troppo strette, ora le ho appunto raddoppiate. Per quanto riguarda l'estensione, la larghezza, però ha diminuito il numero. E l'albergo dispone anche di una spiaggia privata. Soddisfazione da parte di Giunta, Consorzio Albergatori e Confcommercio. Ebbene, questa è veramente una pecora nera, nel senso che non in senso negativo, ma in senso positivo, in quanto si distingue in un gregge che purtroppo, insomma, non è molto molto attivo. C'è anche una notizia di cronaca, pubblicata sulla stessa pagina oggi, dal resto del Carlino. Rapina il presunto amante della nuora ed è stato arrestato. Si tratta di un uomo di 66 anni incensurato che ha sottratto la SIM della carta, la SIM del telefono della vittima. Sei l'amante della moglie di mio figlio e se non mi dai il cellulare, e t'ammazzo, questa è stata un po' la minaccia che il 66enne fanese ha compiuto nei confronti di un 49enne ed è stato arrestato dalla polizia. Giriamo la pagina ancora sul Corriere Adriatico. Siamo ad Acqualagna. Vediamo una iniziativa. Si parla di arte contemporanea al furlo tra natura, storia e mitologia. Ebbene, il furlo racchiude tutto questo. Racchiude un bellissimo squarcio di natura quindi di ambiente tra acqua, vegetazione, rupe. Ma vediamo anche poi l'intervento dell'uomo un intervento che si è posto in sintonia con l'ambiente. Ricordiamo soprattutto quello che hanno fatto gli antichi romani e poi questa mitologia perché poi quest'ambiente è così interessato da un alone di mistero perché lì poteva essere anche un cuovo di briganti quindi un'avventura. Tutto quello che può evocare la storia di questo passo obbligato per chi da Roma veniva verso l'Adriatico. Vediamo ancora la pagina di San Costanzo. c'è una polemica che riguarda il centro sociale. Stralciato il centro sociale viene giudicato una scelta grave e faziosa. È la critica dell'opposizione di San Costanzo sulla struttura di Solfanuccio. Faziosa e priva di visione strategica. Così è stato giudicato dal gruppo consigliare uniti per San Costanzo la decisione presa dall'amministrazione comunale di eliminare il centro sociale di Solfanuccio dal piano triennale delle opere pubbliche perché questo centro veniva considerato un punto di riferimento importante per tutta la cittadinanza. Vediamo la pagina di Senigallia. Pensate che cosa hanno inventato due ragazzi, due diciottenni che per vincere la noia si sono inerpicati su una gru alta 20 metri per fare un selfie. Ebbene, per farli scendere sono intervenuti i vigili del fuoco. Ecco qui il titolo. Allarme per due diciottenni che sono saliti su una gru di 20 metri. L'allarme è stato dato da una donna che era sulle lungomare Lighieri. I due ragazzi sono stati poi identificati dalla polizia e probabilmente passeranno qualche guaio. Volevano scattarsi un selfie panoramico da brivido. Insomma, sono saliti su questo traliccio ma è un traliccio molto molto alto. È accaduto poco prima delle tre nella notte tra giovedì e venerdì davanti al Residence Pieralisi sul lungomare Lighieri di Senigallia. Vediamo anche qualche notizia che viene da Pesaro. L'apertura sul Corriere Adriatico è dedicato un po' al problema dei servizi sulla spiaggia. Sappiamo che la nostra riviera si evidenzia e si qualifica sempre più non solo per l'aspetto ambientale ma anche per i servizi che eroga ai turisti. E sono servizi qualificanti. Pensate alle concessioni dove non solo ci sono bar dove c'è un'accoglienza strutturale veramente qualificata dove ci sono strutture sportive dove ci sono servizi in spiaggia qualsiasi esigenza viene soddisfatta dagli operatori. Però insomma c'è qualcosa che è carente. Allora, città e hotel più accessibili ma i servizi sulla spiaggia sono ancora un'incognita e questo è un po' quello che viene posto in accento sul Corriere di oggi. Giriamo la pagina e vediamo due personaggi lui poi è eccezionale vediamo Pecco il grande campione di motociclismo con la sua domizia. e beh, arrivano le nozze arrivano le nozze per questi due giovani che si vogliono bene le nozze del campione della motociclismo da Rossi a Tamberi attesi tanti super ospiti veramente saranno tutti i compagni di questo grande campione che non vorranno rinunciare a partecipare alla cerimonia una cerimonia che verrà realizzata a Pesaro ed è un evento di particolare importanza tanto per le persone che ci sono e poi anche per la coreografia di questo matrimonio e allora a questo punto chiudiamo il Corriere e passiamo invece al resto del Carlino abbiamo visto le pagine che riguardano Fano e ne abbiamo una invece che riguarda il digestore questo impianto mitico che ogni tanto ritorna fuori dalle pieghe della cronaca e fa parlare di sé fa parlare di sé perché è un problema insoluto allora digestore che cos'è il digestore? lo sapete tutti è quell'impianto che dai rifiuti crea qualcosa d'altro qualcosa che può servire per quanto riguarda l'energia del nostro territorio ebbene sindaci contro Ferronia se ne vada insomma questo digestore non lo vogliono perché poi è un impianto che insomma non è bello a vedersi e quindi insomma non viene ben accolto il sindaco di Mondavio Mirko Zenobi ha espresso il suo sostegno a terre roveresche per quanto riguarda questa attività di protesta nei confronti di questo impianto e quindi si dice che quell'azienda non può pensare di lavorare avendo tutti contro sarebbe veramente un'attività che poi troverebbe tanti tanti problemi e quindi conviene rinunciare subito insomma questa è la stretta che mettono i sindaci del territorio alla realizzazione di questo impianto clima che cambia a Urbino arrivano 80 scienziati a confronto i maggiori esperti da una ventina di paesi del mondo per la Summer School di paleoclimatologi paleoclimatologi ebbene siamo veramente allo studio di quello che il clima era una volta e tutte le sue evoluzioni fino al giorno d'oggi 80 scienziati da tutto il mondo sono arrivati nei giorni scorsi a Urbino per studiare i cambiamenti climatici è in corso la ventesima edizione di questa Summer School di questa scuola estiva che vede studiosi provenienti da 20 paesi partecipare agli intensi corsi e poi anche a un workshop studiato dal professore Simone Galeotti e dal suo gruppo e chissà che non si riesca a capire come si possano temperare gli eccessi di questo clima ed ora parliamo di mercatello sul metauro e della sua manifestazione leader che è quella del Paglio del Somaro una grande sfida coinvolgente piena di colore piena di tradizioni Fantini pronti al sorteggio per il via ebbene l'assegnazione degli animali per San Martino Pieve Baroccia e Colombara queste sono le fazioni in campo avverrà l'ultimo minuto oggi e domani non solo la tesissima corsa ma ci saranno anche stand gastronomici musica per tutte le famiglie quindi un salto nel weekend siamo appunto sabato e domenica un salto del weekend l'entroterra fanese fino al mercatello sul metauro non solo si gode veramente di un paesaggio unico passando poi magari per Sant'Angelo Invado insomma Urbania si vede mercatello con questa bella manifestazione è un'escursione che consiglio vediamo ora le pagine di Pesaro dove si parla appunto anche qui di Pecco e Domizia il giorno del sì Duomo blindato solo gli invitati potranno entrare e chi invece vuole assistere al matrimonio starà fuori su il sagrato è una coppia speciale parla Don Mario Florio che celebrerà il matrimonio e ha seguito la coppia fino all'altare l'appuntamento è oggi alle ore 16 si è creato un rapporto profondo hanno voluto fare un percorso spirituale hanno dichiarato i due sposi i regali saranno dati in beneficenza pensate quindi una bella iniziativa per questa coppia e allora dopo aver parlato del paglio dei somari parliamo del paglio dei braceri un'altra bella iniziativa che si svolge questa volta a Pesaro ebbene qui c'è tutto un retroscena perché c'è stata una decisione importante assunta dal sindaco Biancani il retroscena avevano nascosto al sindaco che i biglietti erano a pagamento e allora il primo cittadino si è incavolato da bestia si è arrabbiato stavo per annullare la manifestazione ha dichiarato poi ha optato per il taglio dei fondi il comune si era impegnato a dare alla società di gestione di questa iniziativa circa 50.000 euro ma quando il sindaco ha saputo che la manifestazione era a pagamento ha ritirato il finanziamento imponendo di pagare addirittura anche la tassa per l'occupazione del suolo pubblico insomma o la fate gratis e allora il comune interviene con un sostegno oppure se voi fate pagare il biglietto ebbene fate conto solo su questa entrata questa è un po' la politica che è stata assunta la promessa del sindaco entro settembre avremo una città in città tutte le opere di Vangi Vangi ha decretato nel suo testamento prima di morire che parte delle sue opere saranno donate alla città di Pesaro si parla di 130 lavori tra sculture disegni dipinti in resina l'esposizione nella sala laurana dove è prevista a breve una mostra e sarà un nuovo museo che Pesaro potrà così allestire per elevare il suo indice di capitale nazionale della cultura ma è un museo che rimarrà poi anche negli anni successivi vediamo la cronaca un pusher di soli 20 anni nell'armadio aveva due enti di coca li teneva nascosti tra i vestiti è stato fermato con un'operazione da parte dei carabinieri il giovane vive con i genitori i quali hanno assistito alla scoperta della droga anche loro erano ignari di questa azione che aveva e che stava facendo il figlio accogliente Pesaro per i turisti disabili tutte le informazioni per muoversi è stata presentata dal comune la locandina che rende la nostra città sempre più capitale dell'accessibilità lo dice appunto Pesaro la nostra città è Pesaro in questo caso cultura accessibilità e accoglienza sono le tre parole magiche che caratterizzano questa iniziativa e con questo noi terminiamo la nostra rassegna stampa dandovi appuntamento questa volta non domani ma dopo domani lunedì speriamo sempre alle sette sperando che i giornali per quell'ora siano già in edicola perché insomma in questi giorni stanno tardando parecchio e quindi ci impediscono di essere puntuali grazie per l'ascolto e a risentirci grazie a tutti